E' stata accolta all'unanimità la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Sylvain Belanger, l'ex direttore del Museo di Capodimonte. L'approvazione al Consiglio Comunale di Napoli è arrivata dopo la proposta del consigliere Massimo Cilenti, che fa parte del gruppo di Napoli Libera della maggioranza del sindaco Manfredi. A Belanger si deve il servizio di grande valore che ha prestato alla città, detto Cilenti, alla quale ha restituito i giardini borbonici e ha dato grande importanza alle gallerie di Capodimonte. Sylvain Belanger ha guidato per otto anni il celebre museo napoletano, riuscendo a rilanciarlo con preziose esposizioni e numero di visitatori in costante crescita. Durante il suo mandato la ristrutturazione e manutenzione degli edifici del complesso monumentale si sono susseguite senza sosta. Così come le prestigiose collezioni e mostre esportate anche all'estero, l'ultimo in ordine di tempo Napoli a Parigi con 70 opere spostate al Museo Francese del Louvre. Ha preso il suo posto Eike Schmidt, l'ex direttore degli Uffizi di Firenze e storico dell'arte tedesco, che ha detto di voler continuare il lavoro di Benegy.